Cinque scosse di terremoto con epicentro sull'Appennino-Piacentino fra la Valtrebbia e la Valdaveto al confine con la provincia di Pavia sono state registrate fra la serata di mercoledì e la giornata di giovedì. Al momento non sono stati segnalati danni ingenti a persone o cose, sebbene a Cerignale, piccolo comune epicentro del terremoto, siano state notate crepi in alcune abitazioni e alcuni comignoli, come ha riferito il sindaco del comune, siano caduti. Le scosse, in particolare quella di mezzogiorno di giovedì, che ha fermato i sismografi a quota 4,2 gradi della scala Richter, sono state avvertite distintamente in una vasta area da Genova a Milano. Lo sciame sismico, come viene definito tecnicamente, è iniziato alle 22.02 di mercoledì sera con una prima scossa di magnitudo 3,5 con epicentro nel comune di Ferriere. Alle 11.42 di giovedì, come detto, la scossa più forte con epicentro a Cerignale, a 3 chilometri di profondità. Poi altre scosse più lievi e profonde, alle 12.53, alle 13.16, anche questa avvertita distintamente, e alle 13.47. In una nota, la Protezione Civile di Piacenza ha comunicato che dalle segnalazioni risultano solo alcuni cornicioni caduti, ma nessun danno di rilievo e feriti, mentre, secondo quanto rilevato dall'ufficio viabilità della provincia di Piacenza, non sarebbero state segnalate situazioni di dissesto e disagio lungo la viabilità. Come detto, le scosse sono state ben avvertite in tutto il Pavese e in particolare in Oltrepò, specie nella parte alta, come a Brallo di Pregola, che si affaccia sulla Val Trebbia e dista pochi chilometri in linea d'aria dall'epicentro del terremoto. Una scossa molto forte, l'abbiamo sentita tutti oggi, a mezzogiorno meno un quarto, erano le 11.42, è durato un buon 5-6 secondi. Queste scosse si è molto spaventate e quindi anche pochi secondi sembrano lunghissimi. Io ero al piano terra a casa mia, dove ho grandi vetrine e sembrava che me le stessero buttando giù, perché vibravano e in sottofondo si sentiva un forte rumore come una specie di rombo, un tuono lontanissimo. Io pensavo fosse caduto qualcosa in casa, mi sono subito messo a correre per la casa, ma in realtà ho realizzato subito che è stato il terremoto. Siamo ancora qui, per fortuna nessun danno a niente. Anzi, oggi il cielo ci ha regalato un bellissimo fenomeno atmosferico, un bel cerchio attorno al sole. Comunque qui stiamo tutti bene e mi raccomando tenete duro, guanti, mascherina come avevo su prima e state in casa.